era che cazzo di canzone era tra l'altro un drogato i pinguini tattici nucleari questi qui ma adesso vado lì a vicenda gli spacco la faccia come cantano non capisci moro non capisci lì come sono drogati fammi guardare che pokemon avevo che non mi ricordo più abbiamo sarà abbiamo giacomino stanchi a parlare oggi io moro facciamo la jalapas non sa niente moro di musica come d'altronde alex allen allora fammi andare a curarli prima di fare la casa lì dei tagli l'ho barattato per allora fammi andare allora ci serviva un pokemon di fuoco perché non ce l'abbiamo che cazzo se ne frega del adesso morelli l'ho muto aspetta in parallelo e niente l'ho mutato apposto così allora andiamo a curare i nostri pokemon chiaramente così no abbiamo la possibilità di andare avanti si si l'ho mutato assolutamente si effettivamente si ha sentito in live proprio che l'ho mutato quindi non sapremo mai cosa da dire né se ha da dire perché magari non sta parlando ma questo a noi non interessa lo smuteremo fra un po' quando si riprende dalla sua dalla sua menumazione chiamiamola così effettivamente il live non si sente eh che cazzo eh mi ha fatto ridere che ha riso l'ho fatto suggerire allora andiamo a fare sesso bene entriamo eh come fammi bere eccoci qua eccoci qua allora ce l'abbiamo taglio non ce l'avevamo taglio vedi che l'abbiamo tolto ci serviva dobbiamo ritirare un po' grazie grazie dobbiamo tornare indietro perché taglio ma che figura di merda marco però la porigon e raga non ce l'avevo porigon ce l'ha taglio non ce l'ha taglio no e che abbiamo tolto grovile perché grovile che palle grovile per le squadre deculling e dobbiamo riprenderci uno che fa taglio uno riprendersi ciò che è il nostro po 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 allora chi è allora allora chi è allora Anastasia la tier 3 per 11 mesi ti diamo dei bacini sotto i peli ascellari allora ci posso depositare qua morelli depositiamo così impara via non è vero devi salire al 15 morelli non posso eh Sara dobbiamo depositare qua Sara fa cagare però è dolce deposito morelli non è vero non è rivoluzione rivoluzione schifo effettivamente rivoluzione fa cagare è il collo lungo cosa vuol dire che è il collo lungo dai non lo so amici decidete voi va scrivetemelo voi Aaron è lo starter io lo lascerei giuuu anche giovannone perché tanto non diventa giovannone in questo genere giovannone lo tengo per sempre Aaron ancora no si evolve al 30 qualcosa e poi dopo ancora di più madonna no morelli lo dobbiamo togliere anche perché attualmente è inutile finchè non sale di livello ma togli no poi non devi lasciarlo è l'unico di acqua eh ma per quello ma pistolacolo impara a livello prossimo per ora non serve a un ca' ho capito ma se non lo scusa effettivamente effettivamente quella meno utile è togetich troppo eh per forza togetich ma secondo me dasclops dasclops è giovannone more giovannone ma non è giovannone giovannone non c'è in questa ma giovannone è lui che sei un faloste no giovannone è rivoluzione non è vero è lui giovannone come lui ma si che è lui giovannone la siree di cedonia ma scuola non è dusknoir no è dusknoir fammi mettere davanti proprio lui così lo anzi metto morelli così magari sale e impara pistolino magari in qualche episodio l'han chiamato anche quello lì giovannone io so che è lui giovannone quello principale bravo si or che vedi tutte le dumb battle io no sinceramente però le seguo spesso e volentieri mi faccio la pista di droga dopo si questo è il cazzo sono come vai avanti allora andiamo di qua e poi non me la ricordo com'era sta cosa mi ricordo ci sono tanti allenatori ma non ricordo bene negli oggetti né niente e il dasmar lavora alla reception sbagliato vado di qua e affronto c'è il campanellino nella testa omegashiru grazie omegashiru grazie 3 mesi grazie mille pathfinder mai più ve lo enfatizzo anche così imparato ma rai ci guarda te l'unico di elettricità l'ho beccato io è brutto che è grasso ma è bruttissimo la donazione era terribile tutto lungo è imbarazzato ora che si tocca le gottine fa no non voglio apparire nella live ho grovazzi ma tanto adesso prima devo usare giovannone che lo voglio sistemare si è meglio col cappello di utilizzare solo che adesso guarda non dite cacate per favore non dite alle ossa grosse possiamo cambiare e mettere grovazzi adesso oh aaron però era per allenare tutti sennò erano sempre gli stessi allora cosa faccio taglio furia no qua faccio solo taglio c'ho assorbimento e la furia eh ma tanto è random a caso poi le mosse colpo cacchio alex non ha seguito non ha seguito una sega alex perché l'ho rimesso perché mi serviva taglio pa 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 to ca tu alex no allora fallo tu vieni a casa mia lo fai tu po 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 non ho visto che aveva messo messo a caso che spavento ma escono addirittura prima il il paolo un anno grazie il paolo grazie di tutto e buon anno grazie a te paolo ma forse c'è nel senso il livello a cui la imparano forse è casuale darkmark se sei dell'allenatore perché altrimenti non avrebbe senso che no le mosse dovrebbero essere è perché ha fatto effettivamente ha fatto fulmine ma è al 14 però boh non so in realtà non lo sa c'ho chi è da voi ma sidra aveva un colore un po' strano o sbaglio no aveva un colore un po' scuro allora fatemi andare qua che non mi ricordo cosa c'era oltre da questo punto al codice segreto se ogni volta ci deve essere la cazzo di animazione eh sì rencio lo dovrebbe avere come mossa iniziale era a posto che problema era allora l'albero si può abbattere con taglio quante volte la leggeremo io posso rivedere una una casa un edificio con gli alberi in che senso? eh stai tagliando degli alberi in edificio ma perché è una casa fatta in realtà sono dei bonsai eh ah è senza ne tagliarli non riesco mai scarli Mike Pupa c'è qualcosa che non va in questi nomi io continuo a dirlo c'è qualcosa che non funziona proprio benissimo perché no scusa cos'è questo certo potrebbe essere anche una piccola una piccola operazione ci mancherebbe fa caccare sia lui che il suo amico ma scusa il tuo il moro fa i brillantini quando spawna non è shiny eh non è shiny si parla che sono paralizzato devo pure sorbirmi sto finto piccio è una trans formazione vabbè scusa eh perché trans Mike ah la ball speciale la ball speciale forse l'avevo preso con la premier ball si crema quindi è Berlusconi ah si sei Berlusconi si butterfree che andava bene per butter dai burro gratis per il coleottero chi è che era super efficace? fuoco? si tutti vabbè lascio Giacomina chi se ne frega non mi ricordo quelli mi ricordo manco io mi ricordo manco io ma vedi che c'hanno tutti sti colori particolari un po' come smeraldo che sembra sbagliati tu l'ho barattato per e figurati se non fallisce chiede gatto cosa fai gratis moro perché effettivamente non si è sentito il burro il burro e sono sempre fermo coi turni guarda te fastidioso oh è andato dove? è a cacare moro vedi? ah che ridere forse una scelta di mike sarà butterfree e non cambiamolo mettiamo così allora a parte che nel ponte mica si affrontava il vera che non è vera finta quindi eh si si prima del ponte nell'erba prima del ponte grazie dei grizzly che feo grazie grizzly non ce la faremo mai a fare la mossa mai e l'1 sa poterlo eh di 10 stai zitto corna di merda si proprio a ruolo eh vi dici tu allora a fare il corno vi dici tu allora che cazzo dici vi dici tu che cazzo dici vi dici tu mike pupa continua ad essere un po' particolare ma noi la salutiamo con la eh saluto con la tromba e con l'imbuto ok ho memorizzato meno male che lo fai in automatico perchè figurati se avrei eh allora morelli eh il mago del quiz è un mito pensa che codice delle palle ma com'è? l'ho detto così ce l'hai fatta raggiungermi? sei intelligente mi c'è voluto dentro la notte nooo sei quasi al mio livello quindi ha piantato gli alberi che sono cresciuti in una notte o sono finti non l'ho capito no lui sono bonsai c'è il vasetto li mette e quindi sono dei cavalli moro? ehm ehm ah 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 non l'ho capito bonsai di tuoi story di tuoi story chi è? chi è? io non voglio rispondere più a morelli mai più nella mia vita di tuoi story povero mentecatto povero pazzo ma la bici dov'era? devo passare da sotto poi la bici no? prima devo passare da sotto poi dopo mi danno la era bonsai imbecille era bonsai era bonsai non mi ricordo più era bonsai effettivamente che sto immaginando era bonsai ho capito io ho capito che non avevi proprio capito chi era ho detto boh scusami bonsai bonsai il cavallo ho capito ma perchè adesso ho detto bonsai e ho detto bonsai però era bonsai eh si avevo appena letto bonsai cioè avevo appena detto bonsai fammi rimettere fammi togliere grova che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo si vabbè quanto quello avete scritto non sai bonsai siete tutti simpaticissimi chi c'è davanti tra l'altro non mi ricordo fammi salvare 1 2 3 morelli vediamo magari sale zuccherò zuccherò Con le mani sbucci! Qui è il zucchero? Sì. 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 Ah, fammi bere. Vai Morro, spiega intanto di... ...decooling. Cosa? È vomitato. Non può, l'ho mutato. Ah, ho capito che aveva vomitato. Eh, che grosso questo... Madonna! Stessi? Guarda la stessi bulla. Questa? E' una pose! Di Mao che dona 1,50 euro per dire. Cosa dì? Buonasera, amici. Siete sempre belli, anche a 45 gradi all'ombra. Chi si ama tutti, ma Marco un po' di più. Dove ti trovi? Io vi amo di più, sì sì, effettivamente vi amo di più. Belli che siete. Sei molto gentile, anzi. Ah, quindi è che anche Porygon fai brillantini. Perché è la Premier Cribbio! Questo finalmente dorme. Ora, abbiamo imparato Psicoraggio con lui. Usiamolo. Adoperiamolo a modo. Per diritto come è borghese. Usiamolo! Dieci. Oh, brutto cacchio. Rifacciamolo. Ma poi sto bullo si chiama Stessi? Eh oh, che ti devo dire io? Sono tutti sbagliati, tutti invertiti. Sbagliati. La versione Pokémon di Esprit è uguale a quello vero, oppure il contrario. Ma... Io preferisco rispondere con Morelli. Moro che impara Pistolacqua, vedi? Eh eh. E vai! Mai! Aspetta che te la infilo nella testa e tolgo Rugito, anzi azione tolgo. Che non la userò mai azione. Mai! No! Perché Rugito almeno mi fa delle cose. Azione non la userò mai. Mai eh. A meno che non è l'unica modificazione. Quanto non la usi, scusa? Mai! Si. Ah ecco. Ma l'edizione ti aumenta un sacco di specifiche, scusa. Non ho letto chi è il Pokémon dopo. Fa niente. Mettiamo per sicurezza Sara. Usiamo un metronomo e ci divertiamo un po'. Sei tutti i Pokémon veramente di merda Marco. Eh, dobbiamo prendere un po' di... Ma che bozza che ha Makargo. Mag Cargo, anzi. Non Makargo. Makargo si legge comunque. Però mi dà fastidio. Mag Cargo, scusami. L'ho detto troppo pronunciato. Allora, metronomo. Lo userò proprio un Pathfinder. Profumino, che dolce che sei Sara. Ah, che storia il giorno. Ah, che profumino. Adesso dormiamo. Eh Sara, mi sa che ti cambio invece. Se no ti addormenti come tuo solito d'altronde. Guarda veramente. Ho fatto un pisolino di 68 ore. Vai Giovannone. Coscia lunga. Fagli vedere. Ma che sassata. Facciamogli ombra notturna. Ah, che botte che gli abbiamo tirato. Di nuovo, di nuovo. Un sonno, un sonno. E basta con queste bracciere. Solo quello fa. Ciao, ciao a tutti. A quelli che arrivano adesso con il loro fisico da strapazzo. Sarà è salita al 14. Eh, dai. Dai, stessi bullo. Avanti. Adesso perdiamo senz'altro qui. Oddio, sai che non me lo ricordo questo qua? Tu te lo ricordi? Un tail. E non me lo ricordo. E l'evoluzione di un altro. Ah beh. Probabilmente non mi ricordo neanche l'altro. Se non mi ricordo lui. Questo si evolveva... No, è già un'evoluzione mi pare. Non me lo ricordo. Ma cos'è d'acqua lui immagino? Acqua elettrico sarà. Mi sembra una sanguissuga. Ah, l'evoluzione di Clamperl. L'evoluzione di Louvdisc. Quando mai Louvdisc si evolve? Andiamo di Clamperl. Non abbiamo neanche uno elettrico, tra l'altro. C'è, abbiamo proprio una squadra sbagliata adesso. Si, si evolve in Goribis o... o until... Ed è solo acqua, va bene, va bene. Va buono. Facciamo un bel parassi sesso. Mi spiace vero il polo. Non mi piace tantissimo. Non so quanto tempo perso. Non era acqua buio. Ah, io non lo so. Neanche me lo ricordo. Forza antica, così. Giusto for fun. Gli abbiamo fatto niente. Però ci è salito le situazioni. Che danno che li hai fatto, Marco. Ares, grazie mille. Grazie Ares. Però adesso è salito tutto qua. No, non lo so. Sì, Marco. Veloce. Poi dopo la live devo continuare a guardare... Cosa devi guardare? No, dopo la live noi siamo da catto. Non è vero. Non lo fa? No. Dobbiamo guardare Seven Deadly Sinus. No, non lo fango. Io non lo metto. Oh! Kabutops. Eh, ma non abbiamo... E continuiamo con lei? Non ne ero aggiornato. Anzi, chiedevi. Ormai è la nostra punta di diamante. Ma tutti in smeraldo hanno i colori strani. O troppo chiari o troppo scuri. Allora, cosa avete mangiato voi questa sera? O dovete mangiare? Io ho mangiato la pezza. Ho mangiato le fettine pannate. Fettine! Fettine pannate! Sta bene, però. Invece domani mi faccio la pasta al pesto col tonno. Visto che l'ho pronta una volta, è da buona. Pasta al pesto e tonno? Sì. Ma l'avevo consigliata ed è buona. Normalmente è un accoppimento delle palle. Eh, però invece è buona. Va bene. L'ho provata l'altro giorno. A parte che penso che il pesto copra un pochettino il sapore del tonno. Il migliore è sempre tonno, peperoncino e limone. Eh, limone no. Però tonno e peperoncino invece. Beh, tonno e peperoncino è classico. E sono tutti... Lascio 6 lb. Lascio 6 lb. Eh, skipper l'hanno consigliata qui in chat qualche mese fa, l'ho provata e non è malaccio. Sì, è buona. Sempre meglio la pasta al pesto e basta. Però anche col tonno comunque c'è stato. Quindi fa cagare. No, no. È buona. Capito, se la pasta col pesto ci metti il tonno ed è peggio vuol dire che fa cagare? Beh, perché comunque... Non può far cagare. Ma se ti piacciono quei tre alimenti non ti può far cagare. No, beh, è difficile. Capito, ma se mi hai detto la pasta col pesto è meglio. Eh, allora vuol dire che se ci metti il tonno è peggio. Sì, sì, perché il tonno... Ma no, perché comunque penso che il tonno copre un po' il pesto. Beh, in realtà si copre un po' a vicenda. Si coprono un po', quindi... E per quello non è un abbinamento adattissimo. Però la vedo dura sia una me... Cioè, non credo che lo possa essere. Pesto con gamberi? Non è una merda, ma se mi dici che con... con il tonno è peggio e la mangio senza tonno, scusami. Puoi mangiare anche qualcos'altro. Si parla che era visto l'acqua qua, che era una bollicina con delle gocce che cadevano. C'è stato gli spinaci col tonno. C'è stato gli spinaci. Il tonno e i pomodorini. Nier Hearth, grazie mille. Grazie Nier Hearth, due mesi. Grazie. Perdonate l'inunanza... Ah. Che fanno qui? L'abbiamo già detto. Fanno passi? Io vorrei togliere le pomodorine e scaglio di parmigiano. A freddo però. Io faccio il farro olorzo perlato, con i pomodorini, il pesto, il grana... Meste grana? Non lo si coprono a vicenda. No, vabbè, ma il grana ce lo metti giusto per la conquista. Beh, se ci metti le scaglie. E allora niente. Tonno e Philadelphia. Ostia. Beh. Usiamo queste pozioni. Giusto per... Ma una per una si devono prendere, no? Esatto, quello che ti ha scritto con Nier Hearth. Esatto. Quella, la storia. Quando hai detto mi fai vedere mi stavo preoccupando. Ma poi Tonno, ragazzi... A me sta simpaticissimo. Tonno e Philadelphia è nulla, ma... Tonno mi sta simpaticissimo, dai. TYRANITOR CHE CACCHIO DAI! Così! Bello! Fortuna che c'ho... Anche se lo doi... Che palle non lo metterò più. Purtroppo... Tonno ha avuto un incidente oggi. Sì, oggi purtroppo si è schiacciato le palle mentre si sedeva. Ah! Esatto. Si è seduto troppo velocemente e si è schiacciato le palle. Se potete poi andare su Instagram... Nel profilo di Tonno. Quello di spie palle. Esatto. Si chiama Fratonno si chiama. Fratonno, sì. E se potete scrivergli... Ci dispiace per le palle. Ci dispiace per le palle. Ci dispiace per le palle. E... Almeno gli stiamo... La nostra community li è vicina, almeno. Esatto, esatto. Tyranitar è veramente be... Qua il collo è un po' troppo spinto. Comunque grazie ad Alaba. Alaba, ciao! Grazie Alaba! Era un po' che non ti sentiva. Grazie mille, Alaba. Grazie mille, Alaba. Infatti, non puoi venire a sentire. Bentornati. Oggepi, ma Sara! Io faccio un cambio. Faccio combattere Sara contro gli Eus. Ma guarda, Keeper. Pokémon GO ha ripreso... Un po' tutti. Magari poi morirà ancora, però... Sono due giorni che mi sento... Nell'occhio destro, tipo, come se avessi una patina che mi dà fastidio quando guardo le cose. Dovete andare un attimo qui, che è l'ultima foto, e li scrivete... Guarda che piccola dance, tutti... Cosa li dovevano scrivere? Grappo! Ci dispiace per le palle. Ci dispiace per le palle, dovete scriverci. Andate, gli scrivete. Ci dispiace per le palle. Lo scrivo anche. Poi magari gli facciamo anche una storia dopo, dai, che appunto... Ci dispiace molto per quello che gli è successo. Eh sì, esatto. Ci sono le caramelle raddoppiate. D'altro domani lo vedo. Domani sarà Vicenza, tra l'altro, che vado a sentire i rover e i pinguini tattici nucleari. Per chi andasse anche lui, o lei, al concerto, ci sono anch'io domani. Che canta, tra l'altro, Marco? Canto io? Con i rover, però. Con i pinguini. No, no, con i rover c'è solo il batterista dei... Il cantante dei pinguini tattici nucleari è un po' stanco, infatti... Si, si è schiacciato le balle, purtroppo, poverino. Lugia 91. Lugia 91. Ma non sta succedendo niente, mi pare. Lo so, Gatto, scusa. Perché andasse a scuola invece facesse meglio? A scuola di sera? Cosa vuol dire? Beh, scuole serali ci sono, ma non adesso. Anche di mattino, comunque... Non lo so. Quelle faccesse è un po' particolare. Non ho capito comunque, perché andasse a scuola invece facesse meglio. Faccesse forse vuole fare un fac? Vuole fare un fac su quella... Successo? Successo? Fuck, c'è. Wild Strike! Wild Strike è a 11 mesi. Passo per lo saluto a lui, ce la recupero in pasta. E non ho ascoltato Mark perché l'ho mutato, Gatto. E' fatto, e' fatto. Anch'io ho mutato gli Hazard. E' fatto bene, Marco. Quindi... E no, quindi... C'è un po' di problemi. Vabbè, perché purtroppo oggi Moro gli è successo un fatto, no? Siccome era in ritardo per Alive, è arrivato al PC, si è saluto di corso e si è schiacciato le balle, poverino. Sì. Infatti ci potete andare a scrivere a tonno. Ci dispiace per le palle di Moro. Mi rilinco, mi rilinco. Ci dispiace per le palle. Mi dovete scriverlo. Esatto. Eh, Sara, purtroppo ti devo ammazzare perché questo era un tedio. Ci dispiace per le palle. Ci dispiace per le palle. Chi è? Savixtreme. Grazie mille Savixtreme. Grazie anche a... Bulk, o Malc, 933. Trishman. Dove lo stanno scrivendo nell'ultima foto? Sì, sì. E lo scrivo anch'io, però devo... Aspetta che gli faccio anche una storia. Eh, che storia. Tonno, purtroppo ci dispiace per le palle. L'abbiamo saputo adesso e davvero ci dispiace. Eh, ma mi è risultato già cornesso. Ma strano. Ma che palle? Mi sono cancellato la storia. Niente. Vabbè. Ho cancellato la storia antes che pubblicarla. Vabbè. La faccio io. Chiedo scusa. Aspetta, la facciamo assieme. Guarda, Tonno, l'abbiamo scoperto adesso, purtroppo... Tonno, l'abbiamo appena saputo. Ci dispiace per le palle, davvero. Ci dispiace per le palle. Ci dispiace tanto, Tonno, davvero. Non lo sapevamo. E' andata così. Ehm... Costernazioni. Cos'era? Costernazioni! Costernazioni! E' divertente, però. Va bene così? E' come si tagga? E io l'ho taggato. Hashtag... Non hashtag... Questo. Come la mia sub. Roby, non... Non è uscita. Il ritmo è in calza. Ce la fai a vedere il palo. Ho fatto il via e condividi, Marco. Eh? Ma perché non sei buono? Chitarrista Marowak! E' sempre Stacy si chiama, eh? E' il chitarrista Marowak. Ah, ma pensavo fosse il chitarrista Marowak. Vabbè, magari un chitarrista anche lui... Non lo so. Sovrappò. Posso? Una lotta. Che come al solito Moro vuol dire. E quale... Ciubro, Berta? E non ce l'ha più. L'ha persa, infatti. Ha perso la sub, eh? Ah, ma... Complimenti. C'erano azioni, anzi. Ma tu triste, eh sì. Anch'io non sono buono a parlare, ma voglia scrivere, eh? Mordaci vostra. Allora, non ho visto chi metteva in campo e continuiamo con Moro. Povero Tonno. Povero Tonno. Ehm... Aspetta, Marco che mi stanno chiamando. Chi è che ti sta chiamando? Scusa, scusa. C'era gatto. Ok, abbiamo affrontato il nostro... Marco, era... Era... Frank. Cosa mi ha chiamato? Che mi ha chiamato per darmi questa triste notizia. Dimmi. Che è praticamente, Marco, è Cesare. Sì. Che è successo? Ehm... Ehm... Praticamente... Oggi è andato a fare un'escursione, no? Lì nei colli bolognesi, no? Bolognesi. Ehm... Ehm... Mentre camminava aveva i sandali. Ok. Aveva i sandali e gli si sono staccate tutte le unghie dei piedi. Ah, che dolore! E beh, ragazzi, allora conviene andare da Cesare e fargli sentire il nostro supporto. Amici. Esatto. Quindi andate da Cesare e gli dice, ci dispiace per le unghie dei piedi. Andate... Andate al profilo di Cesare. Si chiama Cesolololo? Cesolololo si chiama, sì. Volete che prendo Fluffy? Andati... Vi linko una bella foto che ha fatto. Andate gli e gli dite, appunto, ci dispiace per le unghie dei piedi. Esatto. Se potete andare qui e commentare, ci dispiace per le unghie dei piedi. Esatto. Non voglio ucciderlo, per quello. Se pensa che Magone, però, cammini a un certo punto... Nevram, grazie. Grazie, Nevram. Sono cose che succedono, sono tragedie, ragazzi. Sono tragedie. Quindi, mi raccomando, facciamogli sentire il nostro supporto, eh. Esatto. Lo prendo, lo prendo! Fluffy? Eh sì, diventa Amparos. Ci serve uno elettrico. Togliamo Yeus, perché purtroppo serve una mazza, poverino. Eh, io sapevo che Frank aveva... Aveva dolore ai capezzoli, però non ne sono sicuro, Moro. Magari se lo senti, poi mi fai sapere. Non mi ha detto niente al telefono, non so. Allora, Fluffy gli diamo un soprannome, lo chiamiamo. Decidete voi, insomma. Come lo potremmo chiamare Fluffy? Fluffy... Io lo chiamerei... Ma... Io lo chiamerei così. Allora, ma... Ma con l'H alla fine o in metà? Chiamalo Amparos. Amparos? Si. Scritto Amparos. Beh, però ci sta anche Oropia. Anche se per me non è più così Oropia. Mmm... Anfa. Chiamalo Am... Come Flanders? Flanders? Arnaldo. Fluffa. Che mi stanno chiamando, Marco. Lo chiamiamo Anfa? Sardegna chiamolo. Anfa. Ok, sono tornato. Anfa ti piace, Moro? Era... Marco, era la team. Cosa dice? Niente... Ah, la team. Sardegna. Come lo vuoi chiamare? Anfa. E' veramente terrible. Ma la merda, Anfa. Perché? Marco è bruttissimo. Chiamalo Sardegna, come han detto. Ma perché? Perché un sardo le pecore? Eh. Io non lo chiamerei Sardegna, comunque. Perché devi insultare... I popoli. Allora, chiamalo... Terron di merda, chiamalo. Allora, chiamalo Sassà. Sassà. Mi piace Sassà? No, ma Sassà lo c'entra... Sassà mi piace? Allora, chiamalo Shai, chiamalo. Anfame? Mi piace Anfame, lo chiamiamo così. Ma perché? Perché Anfaros. Eh sì, Anfame è vero. Ah, già, in prospettiva. Anfame. Mi piace Anfame, ottimo. Yes. Tanto, ricordiamo di andare qui a scrivere, ci dispiace per le unghie dei piedi, al povero Cesu. Certo. Povero Cesu, povero Cesu. Messer Pisellone, eh. Ma basta, di nuovo Sara? Adesso deve infilarsi i calzini mettendosi la pellicola intorno alle dita dei piedi. Quella... il domopacco. Perché... Eh sì, no, no, la pellicola... Non lo so, spero. Pellicola proprio, perché sennò gli... gli... ingratta tutto il calzino sulla pelle viva. Ma macchia direttamente? Ma che musica. Adesso mi perseguita, Sara. Come non si scappa? Che palle, macchia. Eh, va bene, burpes. Tra l'altro, amici, parlando di cose serie. Eh, mi ha chiamato Frank. Sì. No? E mi ha detto... Cazzo, avete visto The Cooling? Ah, proprio Frank ha detto. Sì, sì, ha detto Frank. Sì, sì. Quanto pare per chi non avesse seguito, no? E' uscito The Cooling 2. Ma ormai penso che lo sappiate tutti. Ed era una merda che faceva cacare di qua e di là. Eh, purtroppo. Sì, no, ma io ho avuto problemi di... di stomaco io quando è uscito. Pensate. E a quanto pare è fallito. Come proprio la merda lì. Ma tipo il terzo giorno, in realtà. Sì. E allora... Perché Arim ha fatto in tempo di diventarsi il campione del mondo, però. Giorni fa... Giorni fa hanno fatto un tweet, gli sviluppatori, dove hanno scritto... Eh... ci stiamo prendendo un attimino di tempo per ripensare i nostri giorni. Lorenz Triathlete. Va beh. Ne riparleremo i prossimi giorni di quello che sarà lo studio, di cosa farà lo studio. Oggi è uscito un video della Xaviant, la casa produttrice del videogioco. Che non è il personaggio di... eh... Gli Ezra in Pathfinder, che a proposito è morto per sempre, volevo ricordare. Esatto. Lo faccio più bene, lo faccio più bene. E... Praticamente... Hanno annunciato cose. Ci affianza. Hanno detto. Allora, The Cooling 2 è una merda, purtroppo. Quindi... Chiediamo scusa a tutti che rivediamo i soldi. Lo togliamo da Steam e vi rivediamo i soldi a tutte e duecento le persone che l'han comprato. Forse trecento? No, perché... Una cinquantina le avevano già chiesto il rimborso. 50 le avevano già richiesto il rimborso. Sicuramente di più anche. 200 rimborsi faranno, no? Il The Cooling 2 sarà cancellato dalla faccia della terra. Ma non è tutto qui. Perché han detto che... This week, quindi questa settimana... Che pane d'acqua! Eh, sì. Che fate, siete stupidi! Hanno detto che... Aggiorneranno The Cooling 1. Per davvero, Redimel. Praticamente, questa settimana... Cesu! Ciao Cesu! No, perché abbiamo saputo... Abbiamo... Abbiamo saputo... Allora, aspetta. Ti possiamo spiegare, Cesu. Mi ha chiamato Frank e mi ha dato questa notizia. Io non lo sapevo. No, ci ha detto Frank che sia tu che... Tonno... Tonno si è schiacciato le palle e tu ti sei... Ti sono staccate le unge dei piedi. E noi abbiamo mandato la nostra community a preoccuparsi per voi, amici. Non è che... Mi ha detto... Cioè... Fatevi sentire in questo momento di bisogno al povero Cesu e a Tonno. Che povere... Comunque! Ci spiace! Esatto! È stato il promo? Ah, ecco! Beh, andava anche il promo. Vabbè, non c'è di... Adesso non nasconderti dietro un dito. Mester pisellone! Perché senza unghia non puoi! Non hai le unghie, può capitare! Però dai! Speriamo che ricrescano, ecco. Sì, sì. Anche perché andare in giro con i salsiccioni, con i sandali... Fatti, che schifo! Comunque! Domani lecchi me comunque, non Moro! Moro non c'è! Vabbè, è una slinguazzata... Lontano, gliela vado io da parte tua! The Cooling 1 uscirà... Pull Vux! Grazie a Pull Vux! Grazie a Pull Vux! Grazie a Pull Vux! Uscirà nel test server questa settimana... The Cooling 1 Day 1. Ossia, com'era al Day 1 The Cooling 1. Esatto. Nel mentre che la gente potrà giocare a The Cooling 1 Day 1... E la versione vera di The Cooling... Diventerà free to play... E verrà sviluppata di nuovo. Quindi... Massimo Giletti! Grazie mille! Grazie! Grazie Massimo Giletti! Grandissimo! Comunque sì, ci saranno praticamente due The Cooling. Quello base, della versione Day 1... E quello... L'1 che andrà avanti a essere sviluppato. Esatto. E diventerà free to play... Lo svilupperanno... Il test server ovviamente è solo su PC... E solo per chi ha The Cooling, ovviamente. E quindi è una bella notizia per noi giocatori... A me è una notizia sempre più... Terrificante per la casa di produzione... Poracci che... Dal video sembrava... No, il tizio che ha fatto il video... Però non si sa mai che magari adesso che... Fanno tornare... In alto il primo The Cooling... Magari anche solo con microtransazioni per quanto riguarda l'aspetto fisico... Queste cose qua magari si riprendono un attimo... Qualcuno ci sarà sicuramente che giocherà adesso... Io spero torni la gente... Anche perché il gioco merita... Comunque... E quello è fuori di dubbio... Eh sì... Per chi volesse provarlo... Aspetti che diventi free to play... Tanto la prima patch... Poi se volete supportarli... Spendeteli sti 5 euro... Beh ovvio... Questi 5 euro adesso... Quindi potete anche fare con la spesa... Il tizio del video era tristissimo... Cacchio Blazzi che ne hanno più te Moro... Come? No... Celebi non va bene... Giacomina... Era veramente tristissimo poveraccio... Il... Il development... Il development... Il... 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 No? No... Non avevano fatto apposta The Cooling 2 per lanciare l'uno... Loro ci credevano... Ma probabilmente... L'hanno fatto cagata... Poi magari... Una cosa incredibile di marketing che... No... Non credo proprio... Perché comunque ci hanno speso per svilupparlo eh... Lì hanno perso un sacco di soldi... Beh... Ma magari si che di marketing eh... Però... Non saprò l'idea del cazzo... Eh... E invece... Altro Liezar... Fai... Fai uno shout out a... Space Valley... Ah... I tre a casa... Eh poverini... Che dispiacere... Eh... Veramente... Ne stanno passando tutti i colori quei ragazzi... Ma nonostante tutto... Vi portano contenuti per intrattenervi... Sono fantastici... La fortuna è che Frank si è ripreso poi... E Frank ha avuto un terribile male ai capezzoli ragazzi... Sì veramente un terribile... Ma ce li aveva puntitissimi eh... Ma puntiti ma tanto... Cioè proprio era... Si pensava addirittura fosse... E varicella... Quello è il canale... Tre a caso sono quelli di Space Valley... A Deoxys ragazzi... Si ma Deoxys... Ormai... Lo affrontiamo easy... Guarda qua... Deoxy... Deoxy... Il mago Deoxy... Perché non andare a dirglielo... Ma... Non lo so... Ma che magari sta lavorando... Sapevo che stava... Stava... Eh... Raddrizzando i pali della luce... E lui d'estate fa questo... E non vorrei disturbarlo Corn... Per cui... Antonio Tequila... Noi... In un certo senso ci abbiamo anche pensato eh... Che potremmo essere stati in un certo senso noi... Noi Gatto e... E' carima riportare Deco Linguno... Visto che l'abbiamo... Deco Linguno... E' un pochino l'abbiamo pusciato... Quando l'aveva fatto Gatto nella 12 ore... E poi vabbè... Noi ieri... Noi l'abbiamo sempre... Inoltre l'abbiamo fatto... Quando il gioco andava l'abbiamo sempre... Esatto... Noi li abbiamo sempre supportati loro... Gli abbiamo portato un sacco di gente in più del normale... Oh... Io lo so perché... Ehm... Io e Frank siamo fidanzati... Allora vediamo cosa possiamo comprare... Io prenderei... No... Forse qualche Mega Ball a sto giro... C'è un cane veramente grosso che abbaia... Qualche super pozione... E qualche... No... In realtà si ora... Tutti... I giocatori... Comunque che hanno giocato tanto a Deco Ling... Chiedevano alla casa portrice di ritornare al vecchio Deco Linguno... Quindi comunque tutto l'insieme... E li ha portati a quella decisione... Para... E sono rientrato dentro... Come così? Peri... Peri... Coccio giallo? Vero completamente dimenticato i cocci... Che ore sono? Ok sono i 40 ancora... Ehm... Comunque dai... Ho saputo che mi chiamano il tipo Spaccaroccia... La prossima settimana... Il nostro canale tra l'altro si trasforma... Diventa... Il canale solo di Deco Ling... Esatto... Da settimana... Sì da... Quando uscirà... Non mi ricordavo niente... Sperando che appunto... Il testosterone si possa fare... In server privati... Spaccaroccia... Poi lo insegnare... Perché secondo me no... Qualcuno di lotta... Mi sembra una cosa un po'... Eh... 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 E non c'ho voglia di parlare con la tv... Sì sì... E quando uno ti rompe le palle... Fai Spaccaroccia... Quello... Dei no... Dei no... Dei no... Dei no... Potete giocare con noi... Ah... Ma perché adesso... Non gli piacciono... In generale... Battle Royale... Ma non è una Battle Royale... Vabbè... Più o meno... Più o meno... Siaco... Capito... Ah... Il casino... Vediamo cosa c'era... Devi staccare... Internet... Grazie signorina... Hai ottenuto... Mi sono... Tanto stavo pensando... Che se tonno... Può usare le palle... Come gettoni... Potrebbe... Impare di sì eh... Ne avevamo già parlato io lui... Però avessi detto di sì... Non ho capito... Dresoide... Non ho veramente... Capito... Ehhh... C'è un... Non ho veramente... Capito... Non ho veramente... Capito... Sì... Forse hai fatto un errore... Di battitura... Chi l'è? È salvato noi... Dov'era amici? Gioragino Poporoppo... Ah... Sono sette... Eh sì... Poporoppo... Grazie... 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 Giorgino... Eh Redimel... Infatti... Ho fatto una cazzata... Cos'era questo? Quello vendevano a 20 euro... Lo vendevano... Porca... Lino... Zio... Per favore... Voglio sfidare questa palestra... Per vedere se ho fatto progressi... Posso? Ti prego... Zio... Aspetta... Lino... Da quando hai cominciato a vivere con i Pokémon... Sei diventato molto più forte... Ma non pensi... Di esagerare... Non vorrei sfidare subito una palestra? Non sto esagerando... Io e Ralts... Insieme possiamo battere chiunque... Comunque... C'è Pagliaccio... Comunque... Comunque era Lino... Non è che era proprio... Non è proprio un nome da... Lino... Lino... E' Lino... E' come no... Lino Banfi era Pugliso... Certo... Ma Lino si usa anche molto al nord... Ma dovrei averli curati i Pokémon... Beh... In caso abbiamo celebi... Comunque c'è Pagliaccio 2009... Grazie mille... Pagliaccio... Grazie Pagliaccio... Gentile... Gentile... Lilliana si chiama... Lilliana allenatore... Ma davvero? Non ho notato... Eh... Lilliana è un nome da nord... Eh... Lilliana è un nome da nord... Così... Tu... E' l'intuitivo di Lilliana infatti... Ah... Ho fatto un brutto calpo... Ehm... Ehm... Bello questo Ralts... Effettivamente... Si... Bello era... Buonasera... Buonasera... A lei... A lei... Era confusion... Ciao Pierre... Ciao Pierre... E tu dove eri? Ho letto bene... Era Pierpollo? Sì... Era Pierpollo... Era Alza... Ha mangiato un po' tanto... Mi sa... Ciao Ale... Pippi... E guarda per quanto non sei salito... Fastidioso... Look up... Comunque Ralts... Io non l'ho visto... Magari... L'ha trasformato... Zio... E niente... Non l'ho letto... Lino... Non buttarti giù... Nessuno ti impedisce di diventare sempre più forte... Dai andiamo a casa... Ti stanno aspettando tutti... C'è Zia Maria... Zio Francesco... I'm bad... I'm bad... I'm bad... Xalbi... Xalbi... Grazie mille... Xalbi... Xalbi... Ne arriva un altro... Aspetta... Il pervertito amici... Il pervertito... Stavo guardando la lotta... Tu e quelli non siete amici... Non è vero... Tu hai dato il meglio di te... L'hai battuta in maniera esemplare... Sì... E questo è il vero spirito delle lotte Pokémon... E questo è un pervertito... Mi stavo guardando da dietro... Eh sì... Della stagionata lì... Di mezzo... Le assi... Ti guardava con l'occhio lungo... Ricuriamoli che... E' dell'Aurentis... Che fallo... Fammi salvare... Uno... Due... E allora... Dove... Di qua c'era... La pensione... Esatto... E qua alcuni allenatori... Affrontiamo un po' di allenatori... Alleniamo... Leggenti... Devo allenare Esprit... Quale signore che capelli... Dove erano i capelli delle... Obdo... 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 Dove erano... Che capelli aveva... Ma questo qui... Ma è la babbuina eh... Glieder... Cosa... Questo qui... E' l'altro dei fichi d'India... E' Max... E' Max... E' Max dei fichi d'India... Max dei fichi d'India... E' la babbuina... Sono loro eh... Quelli sono... Incredibile... Sono... Ragazzi... Sono uguali identici eh... E' incredibile... E poi i personaggi famosi si trovano comunque... Ehm... Ehm... Molto bene... Molto bene... Ah... Le gemelle... Cullattette... Esler... Ma queste sono quelle... Ehm... Allora... Una bella figura con la mia compagna... Sono l'Elle? Ehm... Sì... E chiaramente ho tolto Morelli io da quelli davanti... Bastardo... Ma di che... Ehm... Quelle azione è? Allora... Conversione prima... E intanto... E' Moro... Rozzotomba... Era la seconda... Ah... E' l'evoluzione vero... Lo start... E' di sindaco... E non ce l'ho ancora... Che cazzo... A me è sempre piaciuto... Ma non così tanto... Cioè... E' la meme... Esteticamente figo... E di quella c'era Toto... Dai... C'era Toto... Ma fallisce... Che palle... Coraggio... Non morire... Eh... Muore... Ma che terza... E' la seconda ragazzi... Non dite... Caccate... Yeah... Gephard... 21 mesi... Negli anni di Gino Paoli... 21... Eh... Insomma... Meno... Ma non gli ho fatto niente... Grazie a Gephard... A parte che Mr. Mime così sembra al contrario... Sembra che il corpo è girato da una parte... Eh... La testa girata effettivamente... Gli ha spezzato il collo... Gli ha spezzato... Che poi credo fosse anche voluto... Però... E' veramente tremendo... Ma stai buono con le mani... Se sapendo... Che poi lo smonti... Che sì... Succede un disastro... Che schifo... Che schifo... Che schifo... Che... Che schifo... Non gli ho fatto niente... No... Infatti sto andando a caso... Chi prendo prendo... Beh... Azione non gliela faccio Alex... Mentre gli togli di più... No... Perché così lo posso confondere... Io mi sono rotto... Voglio allenare un altro... Allora metto Giovannone... No... Ma è proprio al contrario... Effettivamente... No... Perché i piedi sono... Credo proprio fosse voluto... Però è tremendo... E' veramente bruttissimo... Devo... Devo andare da Pardini... Mi devo far fare... Ripetizione... Pippi... Devo vincere di fronte... Alla mia compagna più giovane... Era veramente L... Secondo me... Non era compagna di classe... Però a me non ho dato il numero di telefono... Attenzione... Ah... Ah... Bene... Vabbè... Sono esperienze... Sono esperienze... Ragazzi... Piri... Paravassassa... Ma l'hai fatta la palestra... E vai a fare la palestra... Volevo fare gli allenatori fuori... Così li allenavo... Eh... Sefirot... Se hai visto la storia... Come non può confondere Psicoraggio... Davvero? Che questo... C'è Tonno di Space Valley... Che oggi ha avuto questo incidente... Mentre si sedeva... Si è schiacciato... Si è schiacciato le palle... E quindi se potete andare... Si è schiacciato le palle... Nella sua ultima foto... A scriverci... A scrivergli... Ma basta! Si dispiace per le palle... Ma non è possibile! Un po' di sostegno! Quante le volte le sei curando... E non lo so... No... Perché... Continuo... Il ped va avanti... Non so... Che non è il ped il problema... È il gioco... Perché ho testato... Non è il ped... Allora... Sara... Non va bene... Andiamo a cercare... Vediamo se riusciamo ad andare nell'erba alta... E vedere chi possiamo trovare... Anzi, guarda... Ve la... Rilinco... Perché... Migliore il... Il supporto... E meglio si sentirà... Quindi se li andate lì a scrivergli... Si... Ci dispiace per le palle... Si dispiace per le palle... Si vede... Jolteon! Attenzione! Allora... Ehm... Si coraggio... Che era nell'azione... Perfetto... Assolutamente no Darkmar... Tra l'altro... Aspetta che... Mi sta chiamando Gatto... Un attimo... Meglio di Jolteon... Infatti... Ma non va bene... Ma il gatto lo fa... Perché ha detto di no Moro? E' scemo... E io... Posso dirti di si... Ehm... Non ho capito... Perché hai detto di no Moro... Però lui... Lo so... Io ci ero perdito... Comunque... C'è Gatto che mi ha chiamato... Adesso... Di cosa ti ha avvertito? Ehm... Ehm... Stava cenando... Stava facendo... L'omelette... No? Con la padellina... E per... Far saltare la... Frittatina... Praticamente... Gli è caduta... Gli è caduto... Cioè ha messo un botto d'olio... Si... E gli è caduto l'olio... Dentro le pupille... Che male... Ehm... Beh... Ma Moro... Dobbiamo fargli sentire il nostro... Il nostro affetto allora... Mi sembra... Perché non ha... Ha perso tutte le sopracciglia... E adesso addirittura... Ha bruciato anche un po' di capelli... Adesso ha la fronte... Altissima... Si... Infatti vedrete stasera in live... Alla fronte... Però non glielo scrivete... Non glielo scrivete... Non fateglielo notare... Che non è carino dai... Mi ricorda... Fatti finta di niente... Si... Anche a me ricorda... Un paio di persone... Un paio di persone ce l'ho in testa... Si si si... Però più... Comunque... Purtroppo ho avuto questo incidente... Non ci vede più... Ehm... Infatti farà... Questa challenge... Tra l'altro in live... Gli è venuta in mente... Ehm... Così... Purtroppo... Esatto... Ah... Questo è un uomo... Un altro... Un attimino che... Ando su... User left your channel... E' andato su ad accertarsi appunto che il gatto stia bene... Ma un... Cos'è? Un venditore di... Quello che ti mette la roba nei sacchetti che c'è in America? Nei supermercati? Nei supermercati? Gli è già riscoreggiato per caso? No! Ah... Mi pensavo... Mi sembrava... A me Explode piace! Era un po' triste il gatto... Sì... Era triste? A me piace invece... Mi sa... Adesso... Adesso è al pronto soccorso... Non... Speriamo sia... Detto la live la fa comunque... No no... Si ma arriva... Fa quel green screen in camera sua... No la fa lì dal pronto soccorso la fa... Eh no... Dico... Però c'è il green screen di camera sua... Quindi non... Non fategli uno notare voi comunque... Eh... Siete un po' difficili da portare... Dietro... Comunque la farà... È vero... Quello poteva essere... Da lì... Allora... Adesso cambiamo e mettiamo... È vero... Giovannone coscia lunghe... È vero... No... Non farà l'earla... Ha portato il pc e tutto lì... Perché comunque è ricoverato... Non è che può perdere giorni di live... Chiaro... Chiaro... È comunque il suo lavoro... Eh sì... Giovannone ce la farà a fare questo attacco... Eh... La prossima volta... Eh... Dai ragazzi... E' Ladyba... Che schifo... Tanto avevano chiamato per aprire... Domani il concerto dei pinguini tattici nucleari... Prima dei rovere... Eh... Sì... La prendo la bici... Grazie Ricky... Grazie Ricky... Sì come il livello di Giovannone... Eh sì... È giusto... È bravissimo... Ehm... Purtroppo... Doveva andarci gli Ezra a suonare col sedere e il flauto... È lo stesso che ho fatto... È lo stesso che aveva fatto da Karim... Però poi hanno chiamato i rovere... Eh... Preferito così... Eh... Ma ero anche impegnato domani... Quindi non potevo... Prossima volta... Perché fa certi assoli che... Eh sì... Prossima volta... Da mettersi le mani nel naso... Guarda... Eh beh... Dopo la performance... Sicuramente non c'è un lollazzo piacevole... Ecco... È Uber... È Uber... L'ollazzo è l'odorone forte... Eh... Ha fatto un sacco di prove... No... Cos'è l'ollazzo? L'ollazzo si dice qua... Da me... Non è vero un cazzo... L'ollazzo si dice qua... Ollazzo... 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 L'ollazzo... 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 Lo dite voi in... In Piemonte... Beh si dice anche l'ollazzo eh... L'ho mai detto... Ho sempre detto... Ollazzo perché mi fa ridere tra l'altro di più... Eh Pierre... Io vado tutto invece... Marco lo saluta eh... Giovannone al 16... Fortissimo Giovannone... Sgomento? Ah... Che paucco... Eh... Sgomento gliela insegniamo... Dai... Gli togliamo full misguardo... Eh? L'ollazzo... Tanto... Mi piace Sgomento come mossa... Non è vero... Mi fa caccare... Negli ultimi però mi piace perché c'è l'animazione che fai spaventargli... Fai... Come... Gli arrivi da dietro e fanno... Eh si... Perdono vita così... Si... Exeggutor... Cambiamo... Non abbiamo uno di fuoco purtroppo... Ma si... Usiamo sempre Celebi quando abbiamo un dubbio... Come... Come... Adesso questo qua lo ammazziamo subito... Exeggutor... Exeggutor... L'abbiamo fatto comunque malissimo nonostante non sia super efficace... Adesso facciamo una cosa... Faccio parassi se... Non è vero... Non si può fa... Non mi ricordavo... Figurati... Figurati se me lo ricordo... Forza antica vai... Veramente... Exeggutor non ha Lola... Non deve più sinistra però... Ormai... Ormai... Però mi piace sempre lui... Cagare... Cambiamo... E mettiamo... E ma tanto sono sbagliati tutti... Non è niente di bello... Ha detto Giacomina che tanto... C'hai feda... Sono sbagliati tutti... C'abbè una squadra delle palle... Qualcuno sa quando tolgono i Pikachu rompipalle su Pokemon... La fine del mese... Veramente... Credo di aver fatto 4 rai... Cioè ho ancora 170 caramelle... E continuo a catturarlo solo per l'esperienza e le... Così... Un piccato normale... Non ritardare... Oh... Mi è comparso... Trento l'olio... Ok... È vero... Non te l'ho detto... Dovevo mandare l'audio... Mi sono dimenticato... Oggi sono uscito per andare a fare la spesa... E... Mi sono schiacciato le palle... Non è vero... E... Mi è spawnato sotto casa proprio... Uno... Tutti sopra... Uno sopra l'altro... Due Ninetales... Uno al 1800... Uno al 1700... E... Rattatalol al 500... Tipo fortissimo... Rattatalol... I due Ninetales... Non li ho presi... Perché poi ce li avevo già... Mi è spawnato... Verdum... Adesso... E mi è fuggito... Ma allora sei un bastardo... Sei... Però ha catturato un oddici... Mi sono spawnati tutti uno sopra l'altro... Infatti ho detto... Cos'è sto leggendario incredibile? Invece erano loro tutti uno sopra l'altro... Invece erano loro tutti uno sopra l'altro... Mi ha risposto a Torno... Cosa dice? Cosa dice a Torno? Cosa dice? Ah sì... E' stupendo scoprire che su Instagram... E' stupendo scoprire che su Instagram... Ci sono amici... Che si preoccupano per le tue palle... Però stanno bene... Non... Non ho capito... Me ne sono anche controllato... Tutto bene... Tutto a posto... Perchè? Perchè? Oh che miser... Attenzione! Il piccolo auxiliary... Che... Quello prima ricordiamo è... Barboac... Quello di qui... Deve aver perso la memoria il povero Tonno... Eh... Alex ti ho già risposto... Dicevo che lo... La prendo... E che non mi ricordo dov'è... Più che altro... Poi mi dovrete... Quello Zyzer... Zyzer... Barboac... Ah... Era Remoraid... E' Barboac... Era prima di Whiskas... No... La pre-evoluzione di Whiskas... Si... Quello... Era di Whiskas... Ho sbagliato... Ho rifatto connessione qua... Conversione... Conversazione... Che poi... Remoraid... Barboac... Sono uguali... Sono tutti uguali... Quei pesci del cavo... A Dark Mark... Credo sia in ritardo... Andiamo... Parla nel singolare... Salva Mark... Per cortesia... Beh... Moro... Mi ha dato retta... Subito... L'User... 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 Non lo catturo... Voglio solo fare esperienza... Allora... Amici... Innanzitutto... Io direi di andare... Come frase... Per... Per raidare il gatto... Direi di... Andargli a dire... Ci dispiace per le tue pupille... Eh... Beh... Questa direi che è la frase del raid... Ci dispiace per le tue pupille... Quindi intanto... Noi vi mandiamo da lui... Che fa... The Cooling... Intanto fammi salvare... Assolutamente... Ci sono la Games Week... Poi i raid... In fiera... Non so... Quando siamo andati in fiera... Non... Non l'ho mai aperto... Quindi non lo so... No... Io non ci giocavo... Raga... Ho fatto la sub ieri... Non so... Non so... Però comunque... Grazie... Quindi andatevi a dire... A Gatto... Grazie mille... Ci dispiace per le tue pupille... Eh... Eh... E noi ci ritroviamo domani mattina... Esatto... Domani sera no... Perché non ci sono... Eh... Eh... E con me non si rivedono... Eh... A Gatto... E ci dispiace per le tue pupille... L'abbiamo già detto... Esatto... Esatto...